Ricavi non dichiarati per oltre 50 milioni di euro, 21 persone denunciate, a vario titolo per reati tributari, false fatturazioni per oltre 40 milioni. È il bilancio degli ultimi mesi di attività ispettive condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso. Nel dettaglio, nel corso delle verifiche effettuate dal capoluogo all'area del Basso Molise, le fiamme gialle sono riuscite ad individuare ricavi sottratti all'imposizione per circa 50 milioni di euro, con connesse violazioni all'IVA e agli obblighi di dichiarazione. Diversi comparti economico-imprenditoriali interessati dai controlli dei finanzieri, produzione, terziario, costruzioni, spedizioni, trasporti, agricoltura e commercio. 21 le persone tra amministratori e titolari di aziende finite nei guai. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano quelle relative alla mancata dichiarazione dei redditi per importi di particolare entità. Le missioni ad utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché irregolarità connesse agli obblighi di versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto, operate sui redditi di lavoro dipendente. Infine, ulteriori violazioni individuate dai militari hanno riguardato l'utilizzo fraudolento dei modelli di versamento delle imposte per la compensazione debiti reali con il fisco a mezzo di crediti inesistenti completamente inventati.